In risposta alla sempre crescente emergenza abitativa, il Comune di Arezzo incrementa il proprio patrimonio immobiliare con nuovi alloggi da poter affittare ad un canone sociale, un prezzo cioè sostanzialmente più basso di quello di mercato. Il Comune di Arezzo è infatti aderito all'iniziativa della Regione Toscana che mette a disposizione una disponibilità economica finalizzata all'acquisto da privati di immobili destinati a implementare il patrimonio pubblico. Dopodiché ha emesso un bando in base al quale i privati potranno offrire alloggi con determinate caratteristiche essere ubicati nel territorio comunale, corrispondere all'intero fabbricato o una porzione costituita da almeno 4 abitazioni essere gestibili autonomamente senza gravami condominali, di nuova costruzione o integralmente recuperati in possesso di agibilità e immediatamente accessibili o assegnabili. Le offerte da parte dei privati potranno arrivare al protocollo del Comune di Arezzo per raccomandata o per consegna diretta entro le 12 del prossimo giovedì 4 luglio.